A 17 anni dall'attentato che ha cambiato il mondo escono queste immagini, inedite. L'autore è Mark Laganga, ex operatore della CBS, che in quasi 30 minuti di filmato documenta i momenti dopo il crollo della Torre Sud. Nuvole di polvere, l'atmosfera spettrale, il fumo, persone in fuga e soccorritori stravolti che arrancano tra i detriti cercando ancora qualcuno da salvare. Starei bene, starei bene, dice il vigile del fuoco a questa donna che cammina sotto shock. Poi la ganga entra nella lobby, gli dicono di uscire, che sta per venire giù tutto. Si allontana allora ma continua a riprendere. Di lui vediamo poco più che il bisogno di documentare, di raccontare. Il riflesso in una vetrina, la mano con la fede al dito che si allunga a tratti a ripulire l'obiettivo della telecamera dalla polvere. E poi la seconda torre in fiamme e il crollo. Lo scenario dopo il crollo della seconda torre, uomini coperti di polvere che emergono come statue dal caos e un monumento silenzioso ai soccorritori che continuano a tornare indietro tra il fumo e le macerie. Delle 2700 vittime di quel giorno, 412 stavano prendendo parte all'operazione di soccorso. 343 erano vigili del fuoco.